Salve, lo sapevate, è partita la Garanzia Giovani. Il piano europeo con cui Stato e Regioni offrono ai giovani fra i 15 e 29 anni che non studiano e non lavorano la possibilità di un lavoro, tirocinio e apprendistato. È un'occasione per nuove imprese per formare professionisti ed essere più competitive. Garanzia Giovani infatti offre alle aziende bonus economici per le nuove assunzioni e incentivi per tirocinio e apprendistato. Grazie a tutti.